Come delegazione del gruppo misto abbiamo innanzitutto esposto al Presidente della Repubblica tutte le nostre preoccupazioni che sono le preoccupazioni anche dei cittadini di fronte ad una crisi che continuiamo a ritenere una crisi che si è aperta molto grave in modo anche irresponsabile ma la crisi è la crisi economica e sociale e sanitaria del Paese e quindi noi abbiamo con molta chiarezza esposto al Presidente della Repubblica la nostra convinzione e quindi anche la nostra indicazione per quanto ci riguarda che è quella appunto del Presidente Conte noi riteniamo indispensabile e necessario il costruire intorno appunto al Presidente Uscente Conte rinforzare la maggioranza che è stata l'asse fondamentale tra l'altro di questo governo certamente allargarla su contenuti molto chiari che non sono soltanto quelli di affrontare l'emergenza ma sono le preoccupazioni di portare a compimento il piano nazionale di resilienza quindi i ricoveri. Il governo a mio avviso ha lavorato bene e aveva fatto con questa alleanza PD, 5 Stelle, l'EU aveva fatto delle cose veramente positive per i cittadini e credo che la crisi sostanzialmente abbia voluto mettere in crisi questa alleanza, alleanza in cui io credo moltissimo non solo per il presente questa alleanza ma anche per il futuro perché è un'alleanza che è riformista, è progressista, è europeista è un'alleanza che può dare molto a questo Paese. Ecco, questa è una mia valutazione. Grazie.